Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se non eravamo brillantissimi, però sicuramente gestivamo bene la palla, abbiamo creato 3-4 palle e gol importanti il primo tempo. Potevamo sbloccarla, poi dal mio errore si è sbloccata la partita e non siamo più riusciti a essere padroni del gioco, in quanto loro difendevano tutti dietro la linea della palla. Volevamo più fare azioni singole invece che giocare da squadra, ci siamo intestarditi molte volte ad andare centralmente, invece potevamo sfondare un po' più sulle fasce. Disposto per i tifosi che ci tenevano tanto, però campionate lunghe, sono 40 partite e sicuramente in testa ci sarà la più forte a fine anno. È solo un incidente di percorso secondo te? Questo lo diranno le prossime partite, però sicuramente noi siamo convinti delle nostre qualità, se anche voi riconoscete che non era il solito mino questa sera, evidentemente siamo altri.